Le scelte di Bonetti e Rosato sono state ampiamente commentate sui giornali. Io mi sono limitato a parlarne alla festa dicendo che il nostro partito è un partito con le porte aperte sia per chi vuole andare sia per chi vuole venire. È un partito che fa un congresso democratico come ce l'ha stato richiesto. È un partito che ha decine di migliaia di iscritti. È un partito che ha più parlamentari nonostante Bonetti e Rosato di quando ha iniziato perché rispetto a quando abbiamo iniziato la nostra attività non c'è soltanto l'onorevole De Monte non c'è soltanto il senatore Borghi ma c'è anche l'onorevole Gruppioni. Nel livello regionale abbiamo quasi raddoppiato rispetto allo scorso anno Dopodiché tutte le volte leggo Italia viva in crisi, gente in fuga. Se la gente in fuga significa che raddoppiamo i consiglieri regionali, aumentiamo i parlamentari e abbiamo una presenza più forte sul territorio, viva la fuga! Viva la fuga!